Pace fatta. Dopo mesi di contrapposizioni e polemiche, Provincia e Comune di Lecco si impegnano a sedersi intorno a un tavolo e a trovare una sintesi sul progetto del quarto ponte. Il punto della questione, lo ricordiamo, è che è pronto finanziato un progetto per costruire una corsia accessoria al Ponte Manzoni per collegare Pescate e Albione. L'intervento prevede una corsia in ingresso e una ciclabile. L'amministrazione comunale di Lecco chiede invece che la ciclabile si trasformi in una corsia in uscita dalla città, considerati i problemi di traffico. Fino ad oggi le due posizioni sembravano inconciliabili. In una nota diramata da Villa Locatelli si sancisce invece un passo in avanti. Una cosa, infatti, non esclude l'altra. I due enti si stanno impegnando a trovare una sintesi in un protocollo d'intesa. Si legge che sancisca un percorso atto ad arrivare alla realizzazione nel minor tempo possibile di una corsia in uscita da Lecco, senza far venire meno il grande risultato ottenuto dal territorio con la realizzazione della corsia in entrata. E come concretizzare questo progetto? Il prossimo passo, prosegue la nota, rimane la realizzazione di una nuova emissione della provinciale 72 sulla Super 36 a Pescate, che rispetti appieno l'attuale progetto esecutivo di Anas e che quindi procederà con la gara d'appalto e con l'inizio dei lavori entro la fine dell'anno. Parallelamente, il protocollo d'intesa, fatta salva l'emissione di Pescate, prevede una nuova corsia in uscita da Lecco da ricavarsi al posto dell'attuale ciclabile. Il comune capoluogo si occuperà della progettazione dei raccordi dalla zona Bione, predisponendola coerentemente alla nuova viabilità che si verrà a creare. Questa soluzione, conclude la nota, permetterà di procedere in entrata da Pescate con quanto già stabilito, finanziato e progettato e di abbreviare i tempi di progettazione e realizzazione, contenere i costi della nuova opera che verrà realizzata in uscita da Lecco.